Il successo di Inside Out 2 era scritto ancora prima della sua effettiva uscita nelle sale dei cinema di tutto il mondo, il perché presto detto. Il primo film dedicato alle emozioni è stato adorato dalla maggior parte delle persone che lo hanno visto, e sapere che sarebbe uscito un sequel ha fatto gioire di felicità a tutti i fans del film animato. E la cosa bella è che questa notizia arrivò come un fulmine al ciel sereno, all'improvviso, e ciò a parer mio ha aiutato a rendere questo film ancora più bello. Ma a parte le premesse iniziali, Inside Out 2 è stato veramente un film degno di nota? Come è successo col primo? Oppure no? Bene, in questo video vi parlerò di questo nuovo film Pixar e vi dirò cosa ne penso a riguardo, quindi direi di andare con ordine a non perdere altro tempo e di iniziare subito, ma non prima di aver messo un bellissimo like per supportare il video ed iscriviti se non l'hai già fatto, ti ringrazio. Probabilmente l'idea di un secondo capitolo di Inside Out era già stato pensato dall'inizio, infatti ricordate bene cosa successe alla fine del primo film? Lì abbiamo visto una nuova console e tutte le emozioni hanno notato che in un punto, su quest'ultima, c'era una specie di allarme e sotto c'era scritto PUBERTÀ, dunque pensando a ciò e col senno di poi hanno probabilmente ideato una nuova trama partendo da questo presupposto qui, sempre secondo me. Ma quanto pare la produzione di tale sequel iniziò nel 2022 e a fine 2023 arrivò il teaser dove venne rivelato che nel secondo capitolo verranno aggiunte nuove emozioni. Cosa alquanto normale dato che quando una persona cresce, nuove emozioni nascono dentro di sé e soprattutto nell'adolescenza dove regna sovrano il caos. Pensate poi che per creare per bene questo film si sono basati molto su un libro di Lisa Damor che sarebbe una psicologa dove racconta i cambiamenti radicali degli adolescenti. E non solo, hanno anche arruolato, diciamo così, un gruppo di 9 adolescenti, così da ricevere feedback perfetti per quanto riguarda la storia raccontata nel film. Ed Inside Out 2 racconta tutto ciò nel migliore dei modi, non facendo spaventare i più piccoli ma reddendo il tutto alquanto piacevole e affermando che cambiare non è sempre una cosa negativa, ma potrebbe anche essere positiva. Diciamo che ciò che abbiamo visto nel primo film non viene distrutto da plot twist strani o cambiamenti radicali di trama, cioè per Riley, la protagonista dei due film, è meglio che i ricordi siano fusioni di varie emozioni così da rendere il tutto più equilibrato e maturo e tutte queste sfere fatte di colori mischiati vengono mostrate sia nell'ufficio principale della pellicola e sia nella libreria tra virgolette dei ricordi che si trovano nel luogo chiamato lungo termine. Infatti Joy aveva capito che non poteva fare tutto lei, perché le altre emozioni servono soprattutto la tristezza, quindi il piangere, lo sfogarsi, fa parte di un processo che permette all'individuo di stare meglio dopo aver fatto ciò, parlo naturalmente in generale, e lo vediamo perfettamente nel primo film. Qui nel secondo però le cose cambiano con l'entrata nella pubertà della ragazzina, il tutto all'interno della sua testa cambia creando caos e disordine, ed infatti il luogo principale dove risiedono le emozioni rimarrà caotico fino alla fine, perché l'adolescenza è sinonimo di caos se vogliamo dire così, e per il fatto che la protagonista sta cambiando e sta crescendo, nuove emozioni entrano nel cast principale ed insieme a gioia, tristezza, rabbia, disgusto e paura arriva ANSIA, che ha un character design super particolare con questo sorriso gigantesco quasi forzato e coi capelli tutti dritti verso l'alto e scompigliati, sintomo di una persona alquanto stressata e ansiogena, che cerca di non far capire che ci sia qualche problema mostrando un falso sorriso, poi entrerà in scena INVIDIA, che sarebbe questa piccoletta che possiede degli occhi giganteschi, che è ovviamente invidiosa e vorrebbe diventare alta come le altre emozioni, e se notate possiede 4 dita e non 5 come tutti gli altri, anche se secondo me la gelosia non è un qualcosa che fuoriesce durante l'adolescenza, ma anche prima, come d'altro canto, imbarazzo. Io credo che tanti bambini siano timidi, ed io lo ero da piccolo, e non capisco perché l'abbiano inserito ora, quando la protagonista è entrata nell'adolescenza, però il come è stato disegnato è perfetto, gigantesco e che cerca di nascondersi dentro a questa felpa, ma non riesce mai a coprire del tutto la sua timidezza. E per ultima, ma non meno importante, entra in scena Ennui, che sarebbe la noia, e quest'ultima ci sta, perché un bambino trova divertente quasi qualsiasi cosa, invece una persona durante il periodo della sua pubertà, si annoia facilmente e spesso anche senza nessun motivo apparente. Dunque questa emozione a parer mio è perfetta, ed anche il character design è proprio collegato alla noia, come anche Anzia, e quest'ultima diciamo che è effettivamente il cattivo, tra virgolette, del secondo film animato. Ma lo è senza nemmeno saperlo, perché tutto ciò che fa, lo fa per il bene di Riley. Infatti prenderà il sopravvento e farà rinchiudere le vecchie emozioni in un barattolo, e verranno spedite in un cavo, dove sono rinchiusi tutti i segreti della ragazzina, facendo diventare Gioia e compagni delle emozioni irrepresse, portando più a galla le quattro emozioni nuove, dove Anzia prenderà il comando, e farà gli stessi errori che faceva Gioia nel primo capitolo. Lei pensa che fare ipotesi su cose che non sono avvenute ma che potrebbero accadere, aiuti a far crescere bene e infelicità la ragazzina, cercando naturalmente di creare degli avvenimenti che non possano dare problemi alla ragazzina. Ma per colpa dell'ansia non accade, e le scene ipotetiche sono per lo più negative, e spesso e volentieri Riley prenderà scelte sbagliate. E lo ha fatto fino alla fine, ho adorato il come hanno mostrato il fatto che noi ipotizziamo delle scene appunto nella nostra mente, che potrebbero avverarsi, mostrandoci questi piccoletti che disegnano tali ipotetici avvenimenti, come se fosse uno studio di animazione. E chissà se questo non fosse in realtà un riferimento vero e proprio alla Pixar e simili, ho apprezzato tantissimo anche il come hanno evidenziato il problema dell'ansia e dell'attacco di panico, senza però far mettere paura ai più piccoli, anzi hanno fatto capire che una cosa del genere può capitare nella vita. Ma nonostante ciò ci sono comunque dei modi per superare tali avvenimenti. Naturalmente l'hanno fatto un po' superficialmente, ma io ho comunque apprezzato la scelta. Sicuramente anche gioia non è che stava facendo un ottimo lavoro. Infatti nel secondo film viene rivelato il senso di sé, dove vediamo praticamente la personalità di Riley, che si crea, che si crea il suo carattere e il suo modo di pensare ed agire, e gioia voleva che quel senso di sé crescesse solo con i ricordi felici, e ricordi brutti li spazzava via nei meandri più oscuri del cervello della protagonista. Ma anche questo suo modo di fare non era perfetto, e alla fine del film ce ne accorgiamo, dove tutto va a rotoli e si viene a creare un senso di sé molto più caotico, ma in perfetta linea per quello che sta succedendo e che succederà per tutto il tempo che durerà l'adolescenza della protagonista. Come ho detto poc'anzi, ho apprezzato il come hanno organizzato il tutto, ma molte cose le ho trovate ridondanti, come il fatto che gioia, questa volta con tutte le emozioni precedenti, sia stata nuovamente spedita nel luogo dei ricordi a lungo termine, per muoversi nuovamente in quel luogo per riprendere il senso di sé che era stato spedito nei meandri della testa di Riley da ansia, cioè è un po' ennui come parte, che potevano usare molto meglio mostrandoci cose nuove invece di farci vedere sempre le solite cose. Avrei voluto vedere la parte del déjà vu o altro, invece abbiamo solo visto il cavo dove tante scene divertenti sono state tagliate, per colpa dei limiti del tempo del film e il funzionamento del sarcasmo, che mi è piaciuto particolarmente. Anche il fiume della coscienza non è stato male, ma niente di troppo esagerato. Anche il fatto che il tutto si svolga in un solo weekend è stato un po' frettoloso, però che si basi molto sulle partite di hockey ci stava. Però l'idea iniziale di questo film si basava su un talent show che venne ovviamente scartato, ma penso che non sarebbe stata male come trama, però è andata così. Inoltre il film si è focalizzato fin troppo su ansia, rendendo le altre tre emozioni un contorno. Avrei voluto vederle di più in azione, capisco che l'ansia è importante, ma così sono state sminuite le altre tre nuove, sempre secondo una mia opinione sia chiaro. Però dai, hanno cercato di mettere una pezza al fatto di non aver mostrato queste emozioni nelle teste degli adulti nel precedente film, sia per il fatto che alcune emozioni vengano represse, e sia perché l'ansia può essere gestita, come vediamo appunto alla fine del secondo film. Ma ho adorato tantissimo il personaggio comparso nel cavo che sarebbe un riferimento a Cloud di Final Fantasy 7, vi giuro mi ha fatto spaccare dalle risate, e il doppiatore italiano che ha doppiato questo personaggio è stato Stash Dead Colors, e secondo me ha fatto un ottimo lavoro, niente da dire, anche il personaggio 2D mi ha fatto piegare da ridere, ed anche Blufy e il suo marsupio sono riferimenti palesi a Topolino e a Tudols. Vabbè che di citazioni in questo Inside Out 2 è pieno, tra la Luxobull che è apparsa nella parata dei mestieri futuri della ragazzina, ad Elio del film della Pixar che possiede l'omonimo nome che uscirà l'anno prossimo, ce ne sono tantissimi e sicuramente altri creators ne hanno parlato molto più approfonditamente. E non penso di dirvi tutti i riferimenti, se no il video diventerebbe un video curiosità, ed io non vorrei che accadesse ciò, però vorrei dirvi due cose che forse non sapete. La prima riguarda le emozioni che sono state scartate. Nel primo Inside Out venne scartata sorpresa, nel secondo invece sono state scartate più emozioni, tra cui colpa, stupore e sospetto. Sinceramente non le vedevo così interessanti, forse hanno fatto bene a cancellarle, per ora. Forse verranno introdotte nei successivi film e saranno migliorate? Chissà. La seconda invece riguarda la scena post-credit che è effettivamente scemotta, ma il regista afferma che hanno aggiunto tale scena solo successivamente, e l'hanno fatto per incuriosire il pubblico su questo fantomatico gigantesco segreto di Riley. Alla fine è servito solo a questo, e penso che siano riusciti nell'intento, perché nella sala dove sono andato a vedere io il film, erano rimasti tutti seduti ad aspettare quella scena che avrebbe rivelato il super segreto oscuro, che alla fine è comunque stato innocuo e ci sta. Cosa dovevamo aspettarci? È pur sempre un film Disney-Pixar. Ad ogni modo, in questo film ho apprezzato tantissimo l'inserimento, o almeno l'averci mostrato l'emozione che riguarda la nostalgia, quella vecchetta io l'ho adorata, e spero davvero che venga usata nei prossimi film. E vedendo da dove è uscita, cioè da quella porticina posta nella sala di comando, ho pensato che forse forse anche tutte le altre emozioni siano spuntate da lì, perché no? Poi andando verso la conclusione, ho notato che verso la fine Riley ha praticamente chiamato gioia, come se lei volesse essere felice in quel momento. Io questa parte l'ho intesa come, ormai sono io a gestire le mie emozioni e non sono più loro a gestire me, non so se mi avete capito, ma quella scena mi ha fatto pensare a ciò. Alla fine comunque Inside Out 2 è stato un bellissimo film, mi ha trattenuto benissimo, mi ha fatto ridere, mi ha fatto pensare, e se dovessi dare un voto gli darei un bellotto. E pensate che ha superato il miliardo di dollari contro i 200 milioni usati per realizzare questa pellicola animata, cioè pazzesco. E spero dunque che facciano un sequel, perché possono comunque giocare con le emozioni e con la trama, tipo Riley finisce la scuola e va al lavoro, o la nascita di un fratello di una sorella, e tutto ciò cosa potrebbe comportare nella testa della ragazzina e tante altre cose. Però un finale dove lei diventa mamma potrebbe essere super bello, così da chiudere effettivamente Inside Out. E che dire, penso di aver detto tutto, ora sta a voi, fatemi sapere cosa ne pensate del video e del film, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per restare sempre aggiornati, date un'occhiata al video uscito precedentemente e noi ci sentiamo, come sempre, in un prossimo video.